Salve a tutti, sono Maria Luisa Luccherini, vegan pastry chef e fondatrice della prima scuola online di pasticceria vegana in Italia. Sono felice di essere qui e avere l'opportunità di parlarvi del progetto che ho ideato e che porto avanti con grande soddisfazione da anni. Ho 47 anni, vivo a Ravenna con il mio compagno e il nostro pastore svizzero Bruno. Dopo anni di ricerca, sperimentazione e formazione nelle più importanti scuole del settore, ho scelto di insegnare l'arte della pasticceria vegana invece di aprire un laboratorio, perché credo che la conoscenza sia fondamentale per la nostra vita e per le nostre scelte quotidiane. Sono sempre stata golosa e avendo dovuto fin da giovane eliminare alimenti come latte, burro e uova per motivi di salute, ho subito iniziato a studiare per cercare in modo di conciliare le mie esigenze alimentari e la mia golosità. Ho così scoperto che non è né semplice né intuitivo, come spesso ci fanno credere, preparare degli ottimi dolci senza derivati animali. Chi prova la pasticceria vegana spesso ne rimane deluso proprio per questo motivo. Se ci pensate sul web, nei social, sui giornali e ovunque ci giriamo, oggi tutti si improvvisano pasticceri, divulgando consigli e ricette spesso purtroppo incomplete e deludenti. Quante volte leggendo una ricetta troviamo scritto tra gli ingredienti, bevanda vegetale è quella che preferisci. Il 70% delle volte la bevanda vegetale che scegliamo fa la differenza. Abbiamo bevande ricavate da legumi come la soia, altre ottenute da cereali come il riso o l'avena e alcune derivanti da semi oleosi come mandorle o nocciole. Se riflettiamo, legumi, cereali e semi oleosi hanno caratteristiche diverse. Perciò non possono esserci d'aiuto nello stesso modo. Ad ogni tipo di preparazione va abbinata la bevanda giusta, se vogliamo ottenere un buon risultato. Questo problema sicuramente chi prepara dolci tradizionali non ce l'ha. Il latte è sempre latte, qualsiasi sia la confezione che lo contiene. La pasticceria è un'arte con delle regole ben precise. E la pasticceria vegana non ne è da meno. Anzi, dovendo competere con luoghi comuni ed essendo privata di ingredienti basilari, chi la propone e chi la prepara dovrebbero essere entrambi molto più esperti di un pasticcere tradizionale. Pensate com'è strana la vita. Se oggi sono qui, devo ringraziare quelle privazioni che 30 anni fa avevo considerato una calamità inaccettabile. E lo scopo di tutto il mio lavoro è diventato evitare il trauma che ho passato io da giovane, dando a tutti l'opportunità di poter mangiare dei buoni dolci preparati in base alle diverse esigenze. Ma non è tutto oro quel che luccica. Quando faccio zapping sul web, saltando da un sito all'altro, e mi appare la foto di un dolce incredibilmente soffice e areato. Poi leggo, ricco di fibre e senza zuccheri. Mi dispiace sempre, è più forte di me. Grazie a queste false verità, oltre a danneggiare chi prova il prodotto o il servizio, perché non è possibile che un dolce ricco di fibre e senza zucchero abbia quell'aspetto, le fibre trattengono acqua, per cui il dolce che otteniamo sarà sempre umido. E il più delle volte, la dicitura senza zucchero vuole semplicemente dire che non c'è prevalenza di zucchero bianco, senza però specificare quale dolcificante venga utilizzato. Tutto ciò compromette anche le idee sulla pasticceria vegana e l'immagine di tutti quei professionisti che lavorano seriamente. Ho scelto anch'io il web come metodo di divulgazione, per un preciso motivo. Oggi siamo tutti accumunati da uno stesso problema, la mancanza di tempo, che ci porta spesso, contro la nostra volontà, a rinunciare alla formazione, quando invece è proprio la formazione a farci fare il salto di qualità, sia che parliamo di vita personale che di carriera lavorativa. Sfruttando il web, posso dare l'opportunità a tutti, pasticceri, professionisti del settore, appassionati, chi vuole fare della pasticceria vegana una futura attività lavorativa, di usufruire di una formazione di qualità, senza dover stravolgere la propria quotidianità. Inoltre, poter autogestire un corso direttamente dalla propria sede di lavoro o dalla propria abitazione, vuol dire evitare costi di trasferta, vitto e alloggio, che spesso a conti fatti fanno duplicare o anche triplicare il costo di un corso tradizionale. Grazie all'innovativo metodo che ho messo a punto dopo anni di studio, i corsi possono essere frequentati da appassionati, professionisti del settore e da chi vuole trasformare una passione in una professione. Il segreto è conciliare mondo virtuale con realtà fisica. Cosa intendo? I corsi si frequentano tramite web. Infatti, il materiale su cui studiare e fare pratica è disponibile 24 ore su 24 su una piattaforma online. Ma ogni allievo ha una figura di riferimento per la pratica e come sostegno sulla teoria. Detto questo, è chiaro. Che più si interagisce e si crea un rapporto con questa persona, più il corso diventa personalizzato e maggiori sono le informazioni che si acquisiscono. Ecco perché posso tranquillamente affermare che la scuola è adatta proprio a tutti. È un metodo sicuramente divertente e molto efficace. Dopo aver studiato, ad esempio, che uno zucchero liquido, come può essere il malto di riso, restituisce una torta meno soffice e più umida rispetto all'utilizzo di uno zucchero cristallino, poter mettere subito le mani in pasta e seguendomi, passo dopo passo, consiglio dopo consiglio, trovarsi con due bellissime e buonissime torte, ma con strutture, gusto e sviluppo diversi, solo per aver fatto una piccola modifica, lascia impresso nella mente un ricordo chiaro e concreto che ritornerà utile nel prossimo futuro. E non è finita. Dopo aver assaporato i risultati, tirato le proprie conclusioni, inviando le foto al coach, questi risponderà con specifiche informazioni, possibili modifiche e risoluzioni di eventuali problemi. I corsi che propongo sono tre. Il corso base per tutti si focalizza sugli ingredienti alla base della pasticceria vegana, perché conoscere la materia prima è di vitale importanza in questa attività. È improntato inoltre sulle prime tecniche per ottenere diverse tipologie di dolci semplici, ma di grande effetto e qualità. Il percorso Vegan Pastry Chef offre una formazione completa sulla pasticceria vegana. Al termine ci si riesce a muovere in maniera autonoma creando i propri dolci. L'ultimo corso è una new entry e l'ho inaugurato contestualmente all'uscita del mio primo libro Dolci tentazioni vegane senza glutine venduto su Amazon. Il corso insegna a preparare dolci gluten free senza l'utilizzo di mix pronti. Tutti i corsi sono autogestiti dagli allievi e senza limiti temporali. Come in tutte le cose, le capacità e le conoscenze che vengono apprese dipendono sempre e comunque dall'impegno che ci si mette. L'ultima cosa su cui voglio soffermarmi prima di salutarvi è la garanzia che ho inserito in tutti i corsi. È mio interesse avere allievi soddisfatti, perciò per i primi 20 giorni do la possibilità di testare il mio metodo di insegnamento perché se l'allievo non è soddisfatto comunicandolo via mail durante il periodo di garanzia riceverà il rimborso completo della cifra versata. Se volete farmi domande, chiedermi maggiori informazioni, potete scrivermi ad infochioccioladolcivegani.com o contattare la segreteria della scuola al numero 338 12 83 406. Seguitemi su Facebook alla pagina Dolci Vegani mentre potete trovare le foto dei miei dolci su Instagram al profilo dolci.vegani e se vi piace tenervi aggiornati sul mondo della pasticceria vegana non perdete gli articoli del blog nel sito dolcivegani.com Vi aspetto a scuola e vi auguro una dolce continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti